Ora è il turno di questo su Yasuji Mori, questo è sulla serie della Talpa. Vi ripeto che il contatto, cioè questi libri in giapponese dal Giappone, sono riusciti ad averli tramite Noemi della fumetteria Fantasia di Modena. La trovate anche su Instagram. Questo è un libro molto più complesso di questo di Otsuka, che è molto bello da vedere, dà molte informazioni, soprattutto per chi è interessato a Miyazaki, ma questo è più dedicato a chi ha veramente una grande passione per la storia dell'animazione giapponese dall'inizio. Mori era un architetto, questo è molto francese, questo è molto tentenne come stile. Mori era un architetto, quindi lui cercava di trovare i punti di ancoraggio dei corpi, degli oggetti, dei paesaggi, di qualsiasi cosa, per farli muovere in maniera naturale e ovviamente risparmiare disegni, perché è molto importante risparmiare disegni nell'animazione. Quali parti del corpo si devono muovere se una persona chiama nella neve oppure porta sulle spalle un'altra persona. Le ali che volano, che sbattono, insomma, animali, fiori, l'ondeggiare dei fiori. Yasuji Mori ha disegnato veramente tutto ed è stato fondativo per l'animazione giapponese. Questi disegni sono di una complessità incredibile, sembrano semplici, in realtà sono complessissimi. Takahata, che ne apprese la lezione in maniera veramente da grandissimo maestro, quale fu, sostenne sempre che la figura di Mori era ineguagliabile nella storia dell'animazione giapponese. Queste delle volte mi ricordano pure dei fumetti che c'erano sul Corriere dei Piccoli, perché comunque anche noi avevamo l'influenza francese. Questo modo di disegnare gli animali, gli animaletti, che poi fu, si vide tutto in Holes, poi è rimasto nell'animazione non Osamu Tezuka. Io non amo molto Osamu Tezuka, l'animazione di Osamu Tezuka, i suoi fumetti. Vabbè, lui viene chiamato a mano di Dio come Maradona. Questi sono i modi di disegnare le animazioni, in cui sicuramente Miyazaki, Takahata, prima e Miyazaki attraverso il filtro di Takahata, dopo. Takahata ha avuto un'influenza su Miyazaki enorme, cosa che spesso si tende a dimenticare. E poi ci sono questi qui, ecco anche questo, lo sfoglio piano, per farvi capire se lo volete comprare e cosa comprate. Non è un libro per tutti, apparentemente molto semplice, ma bisogna avere delle competenze. E Maria Rosa va al mercato. Anche all'epoca questo design di 50 era molto internazionale. Ci sono poi, sì, li avevo visti prima, i disegni delle favole. C'è la Peter Pan. Ah, questi sono, sì, agli gnomi, queste storie delle favole che lui fece con la Tuei Animation, dove credo si incontrò proprio con Miyazaki e Takahata. E queste sono la base, la base dell'animazione che oggi ci piace molto, di Ayao Miyazaki. Questa sembra molto la Hilda di Le avventure di Holtz. Poi c'era un personaggio, ecco, eccolo qui, c'era un personaggio, insomma, praticamente Heidi. Giasuji Modi, il grande Giasuji Modi e il grande Giasuo Zucca.